Cento anni non sono passati in vano. Nel parco di Casagori è stato presentato il libro sul primo secolo di vita della Casa di Riposo di Marlia, volume promosso nell'ambito del percorso di avvicinamento alla celebrazione del bicentenario del comune nel 2023, scritto dal giornalista e storico Paolo Bottari e pubblicato dalla Publied. Cento anni di Casagori racconta la storia di una struttura che è sempre stata un modello di riferimento del territorio ed un laboratorio di nuove esperienze in campo socioassistenziale fin dalla sua apertura come ospedale di guerra nel 1915. A presentarlo sono intervenuti, dopo la benedizione di Don Ilario, cappellano di Casagori, il sindaco Luca Menezini e il presidente della Capanno di Servizi Pierangelo Paoli. L'incontro, diretto dallo stesso autore, ha ripercorso le tappe fondamentali della vita della Casa nata nel 1920 come ricovero per cronici e invalidi aiutato dalle testimonianze di chi ha vissuto a lungo al suo interno. L'occasione della presentazione del libro di Bottari si è rivelato un momento utile non solo a ripercorrere la storia, ma anche per parlare di problemi e di prospettive future di quella che ancora oggi viene chiamata Casa di Riposo di Marlia.